Siamo felici di ospitare nella nostra sede, questa volta tre artisti informali, che hanno tre caratteristiche comuni, sono tutti e tre novaresi, tutti e tre hanno incominciato pochi anni fa ad esprimersi in questo modo, utilizzando un po' l'informale nato negli anni 50, in modi molto diversi e quindi hanno espresso le loro tendenze utilizzando dei metodi diversi. Tre artisti, tre profili stilistici ed estetici molto diversi, Enzo Mainini vuole mostrarci quello che risiede dentro la materia e con le sue combustioni vuole farci vedere cosa accade tramite le trasformazioni, le tensioni chimico-fisiche, svelandoci questa energia magmatica che risiede all'interno della sua pittura. Barbara Legnazzi valorizza a livello estetico un senso scultorio ed organico in cui lo spazio è sempre ripensato e ridefinito, mentre Paolo Ghisolfo valorizza il senso lirico del colore in cui la materia cromatica si apre a quelli che sono i sistemi che regolano l'universo. La mostra rimarrà aperta fino al 29 e aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18 e 30.